Amica mia carissima, che piacere rivederti dopo tanto tempo. Ma lo sai che ti trovo un amore? Che mi racconti di bello? Ah, niente di particolare. Tu piuttosto, dove vieni così elegante? Dal consiglio comunale. Ah, a proposito di consiglio comunale, so che ti hanno fatto sindaco. Sì, e beh, dopo tanti anni di sacrifici ho avuto anche io un po' di soddisfazione. Sono felice per te. Grazie, grazie. Senti. Che c'è? Che mi devi dire? Ti volevo chiedere una cosa. Ma come mai per restaurare la scuola avete stanziato solo 50.000 euro e per restaurare il carcere un milione di euro? Ma secondo te, se mi arrestano, mi portano all'asilo?